ciao fragoline allora nuovo video questo il primo video del 2022 che sto registrando allora buon anno che ancora non ve l'ho fatto per cui buon anno 2022 vorrei iniziare questo video a farvi vedere la prima calza della befana che mi ha fatto mia amma volevo comprarla io però poi ho visto che uno costavano troppo due c'erano solo cioccolatini e non trovare neanche la sorpresa alla fine quest'anno detto no non la compro poi il giorno della befana mi sono ritrovata alla calza sotto l'albero e alla fine ho scoperto che anche quest'anno mia mamma ha fatto la calza della befana cosa mi ha messo dentro poi volevo avvisarvi che farò un'altra settimana di pausa dal 15 questa settimana vedete due video un video lo vedete giovedì che è già stato registrato per cui solo quel video vedete già registrato già fatto nel 2021 lo pubblico per giovedì voi vedete questo video oggi che martedì cioè per voi e poi giovedì poi farò un'altra settimana di pausa ho deciso così perché poi mi devo organizzare per i video devo organizzarmi per tutte le cose che succederanno quest'anno per cui sarà molto difficile capire bene anche perché non ho ancora la data per l'operazione e l'intervento che devo fare per cui fino a quando non ho una data ovviamente ho deciso lo stesso di fare queste pause su youtube per cui detto questo mi raccomando iscrivetevi al canale lasciatemi un like e un commentino qua sotto e mi raccomando vi aspetto anche su instagram detto questo apriamo la calza vediamo che cosa c'è dentro perché c'è tanta roba io pesco e e niente ho deciso di fare questo video perché se no dopo restava troppo troppo là per cui dentro c'è la fiesta questa qui che io non posso mangiare per cui gliela do al mio ragazzo allora io le brioche tipo così confezionate io non posso mangiarle perché credo che sono allergica perché mi vengono dei puntini nel corpo per cui queste diciamo impacchettate non le posso mangiare posso mangiarle quelle fresche quelle normale poi ho messo dentro i soldi direi che la la calza è bella bella piena di sorprese mi ha messo i soldi dentro poi c'è il ringo alla vaniglia mai trovati sembrano buoni questi qua li posso mangiare però quando dopo due mesi che avrò fatto l'operazione perché queste cose non le posso mangiare a un altro pacchetto uguale poi queste qui non mi piacciono le gola d'or alla coca non so perché è difficile masticarle poi altri di ringo ovviamente la calza l'ha fatta mia ma poi vediamo un altro alla coca cola questi qui ciocco qualcosa del genere mangiate li proverò poi altra fiesta poi e ma dai c'è il doppione il doppione avrà messo dentro altre uguali vediamo se ci sono no altra coca cola e questo qua al ciocco sarà ciocco alla nutella per finire pensavo no ancora la coca cola vabbè l'unica cosa che posso mangiare è questo che il ringo questi due li posso mangiare invece la fiesta e la coca cola non li posso mangiare comunque la scatola c'è la la calza è vuota la scatola ciao e credo che ha preso i pacchetti singoli perché ho visto che molte caramelle costavano per cui diciamo che era anch'io quando sono andato al supermercato ho visto tante cose che sinceramente come prezzi sono esagerati però diciamo che c'erano tante cose dentro puoi trovare i soldi nel nella calza cosa vuoi di più della vita è cioè immaginatevi di trovare in una calza così tutti i soldi sarebbe bello però vabbè e niente se non è stata cioè se mi amma non mi faceva la calza io non avevo nessuna calza però dato che me l'ha fatta ho deciso di fare questo video anche per un po per farvi vedere qualcosa di diverso comunque allora i video quelli nuovi che registrerò inizieranno dopo il 25 mi sembra dal 25 in poi adesso non mi ricordo bene la data però tanto vi avviserò sulla community di youtube sul sondaggio eccetera e vi avviserò ci saranno tanti cambiamenti però non voglio spoilerarvi niente di questi cambiamenti e nuovi video ma tanti video belli che usciranno quest'anno che secondo me piaceranno di più i video che farò in questo questo mese c'è in questo mese in questo questo anno 2022 sperando che porta fortuna allora in questa settimana sarà difficile che io riuscirò a registrare i video tranne questo perché dato che sono un po malata tra tosse raffreddore e più ne ha più ne mette appunto anche per quello ho deciso di prendere una pausa perché non riesco a registrare con la tosse se no ogni cinque minuti devo tagliare le clip e non so poi quanto durerà il video per cui per non diciamo fare i danni e ovviamente fare video decenti giustamente preferisco prendere questa pausa così almeno recuperate tutti i video che non avete visto in questi mesi per cui niente spero che questa calza vi sia piaciuta fatemi sapere se voi avete ricevuto le calze oppure se voi le avete comprate di solito io non è che sto vado matta almeno che no che nella calza trovate delle sorprese tipo che ne so bamboline robe come si come una volta c'erano le calze molto più belle di diciamo di adesso per cui secondo me era meglio quando ero nata io che quando che adesso in poche parole però vabbè diciamo che le calze che vendono secondo me a me a me non piacciono perché tu spendi 14 euro di calza e dentro trovi solo caramelle o carbone c'è questa cosa per quello che io non vorrei spendere così tanti soldi per una calza tutto ok detto questo che ho parlato fin troppo spero che questo video vi sia piaciuto anche se è stato un po così così un po veloce anche perché non ho ancora preparato i video e li sto ancora preparando piano piano e per quello che in questo video è un po diciamo veloce però l'importante che che il video piace per cui detto questo se no parlo ancora fin troppo noi ci vediamo la prossima settimana per me è la prossima settimana per voi sarà giovedì noi ci vediamo al prossimo video ciao